Quali le iniziative per il Carnevale che ha le porte? Un grande Carnevale a Padova quest'anno collegato al Carnevale di Venezia con tanti eventi e tante offerte anche nei nostri negozi da giovedì fino al martedì, da giovedì grasso fino al martedì di Carnevale. Un Carnevale che si estende a tutta la città, che comprende anche i quartieri che hanno voluto inserirsi, collaborare per portare davvero gli eventi dappertutto. C'è però certe vie che si lamentano perché il Carnevale non passa da loro. Cosa può rispondere a questi cittadini, a questi negozianti? La città è davvero grande, passare per tutte le vie è praticamente impossibile. Noi comunque stiamo sempre attenti a valorizzare tutta la città e quindi alcuni eventi magari per il Carnevale vedono protagonisti alcune zone, altri eventi vedono protagonisti altre zone. Abbiamo ad esempio quest'anno puntato molto sulla cittadella francescana con una guida, con una serie di eventi in occasione di San Francesco. In altre occasioni abbiamo puntato sulla zona di Prato della Valle, in altre occasioni ancora su Piazza Capitaniato. Ovviamente siamo sempre attenti a valorizzare tutti, soprattutto là dove troviamo collaborazione, riferimenti. Del resto, voglio dire, tra i negozi che aderiscono all'offerta, ci sono davvero negozi di tutte le aree.